Blumen Shop è una delle realtà commerciali, creative, artistiche, artigianali se vogliamo, che è ovunque, perché è sul web, attraverso il web si arriverà per tutto. C'è la racconta Fiorenza che da otto anni ha scelto di creare queste cose bellissime fatte con carta, semplicemente carta. Sì, realizzo decorazioni di carta principalmente per allestimenti e eventi, coordinati grafici per matrimoni, battesimi, comunioni e tutto ciò che è di carta. Poi si vedono questi fiori giganteschi, queste cose che possono diventare anche dei cappelli, adesso sto esagerando, ma perché no? O anche i bouquet, perché no? Bucchè da sposa, bucchè da lancio, insomma, tablò. Per chi vuole avere magari un'attenzione particolare all'ambiente, non sopporta i fiori recisi, anche per un fatto emozionale di cuore, ognuno di noi è fatto a modo suo, il fiore di carta è bellissimo, teatrale, pazzesco in molti casi e può accontentare tutti. Oh, non si fanno soltanto così grandi, si fanno anche più piccolini. Certo, si fanno anche più piccoli anche per le case, perché no? Per decorare un angolino di casa. Quindi come fare per trovare Blumen Shop? Scrivere questo su internet si trova? Sì, su internet blumenshop.com e ci sono io che rispondo. E realizzo questi meravigliosi oggetti floreali. Grazie Fiorenza e in bocca al lupo. Grazie a voi Crepi, grazie.